10 5 4 3 2 1 vai destra 1 no per sinistra 2 apre sfiora destra 50 tieni centro al muro attenzione destra 1 no destra 1 no 30 sinistra vai e stacca sinistra 2 2 tempi sinistra vai e stacca sinistra 2 2 tempi 30 al palo destra 1 don da gira 1 don da gira 50 destra 5 tieni sinistra per in fila destra 6 e stacca inversione sinistra largo in uscita sinistra vai ai cartelli attenzione destra 1 gira destra 1 gira 20 attenzione attenzione destra 1 sinistra 1 80 sinistra 1 sinistra 1 80 attenzione inversione destra leva inversione destra leva 50 via subito destra 3 su ponte no per sacrifica sinistra 1 sacrifica sinistra 1 stai sinistra per inversione destra leva via subito 30 ai cartelli sinistra 1 no quale a prima per sinistra 5 vai 5 vai 50 destra 5 veloce destra 5 veloce 200 via giù e attenzione attenzione là in fondo gigante con ingresso a sinistra 80 via subito destra 4 chiude 3 dopo chiude 3 dopo per sinistra 3 tieni sinistra 3 tieni in destra 4 sfiora 50 destri sinistra 4 dopo per destra 4 secca 50 e al fine rail sinistra 3 tieni su restringimento per sinistra 5 lunga iapre 5 lunga apre 8 destri al cartello sinistra vai tieni destra 100 e attenzione destra 3 100 tieni sinistra per attenzione attenzione restringimento destra per sinistra per destra 4 apre arcia e vai destra 4 apre in destra 3 tieni corta 3 tieni corta per sinistra 5 apre 30 destra tieni per sinistra 5 secca in sinistra 3 più lunga tonda chiude poco 50 tieni centro sfiora destra e stacca in sinistra 4 lunghissima chiude alla fine 4 lunghissima chiude alla fine 50 destra 5 secca per destra 4 tieni in sinistra 4 meno apre chiude al rosso 80 destra 3 tonda chiude dopo 3 tonda chiude dopo per sinistra 4 tieni apre in sinistra 5 sfiora per destra 4 diventa 3 dopo in attenzione sinistra 2 ristringimento 2 ristringimento 80 destra 5 lunga lunga credici 5 lunga lunga credici per sacrifica sinistra 4 in tornante destra c'è stretto 30 sinistra 5 tieni 100 fine piazzola sinistra 5 tieni in destra 3 secca dopo ripeto sinistra 5 tieni in destra 3 secca dopo 3 secca dopo per sinistra 4 tonda 4 tonda tieni dopo tieni dopo in destra 6 vai destra 6 vai per sinistra 5 tieni apre e tieni questa sinistra 5 tieni apre e tieni 100 sacrifica destra 5 tieni per destra 2 tonda chiude 2 tonda chiude 50 al cartello sinistra 3 più apre in sacrifica sinistra 3 più per destra 2 salta 3 più in destra 2 salta per sinistra 1 sporca meglio di 8 in destra 3 apre 50 sinistra 4 tieni per destra 5 vai 50 e attenzione attenzione occhio scicami presso sinistra 50 destra 3 tieni dopo 3 tieni dopo in sinistra 4 lunga tieni 4 lunga tieni per destra 3 al palo al palo sinistra 4 concentrato 50 e sinistra 3 tieni e sinistra 3 tieni per sinistra 3 in destra 4 ripeto sinistra 3 in destra 4 sinistra 4 lunga sacrifica alla fine fai concentrato in destra 3 tonda sul ponte per sinistra 4 apre diventa 3 corta in destra 4 per sinistra 5 tieni in destra 6 per sinistra in destra 4 in sinistra 4 lunghissima su restringimento alla fine diventa 2 4 su restringimento alla fine alla fine diventa 2 80 e all'eringhiere destra 3 chiude 2 3 chiude 2 vai 100 alla torre sinistra 5 tieni 80 e al gespuglione sinistra 4 lunga diventa 3 4 lunga diventa 3 per destra 2 lunghissima ricorda diventa 1 alla fine diventa 1 alla fine e al segnale sinistra 4 lunghissima al polo diventa 3 4 lunghissima al polo diventa 3 100 in destra veloce e ai piri sinistra 3 lunghissima avrà alla fine 3 lunghissima avrà alla fine 50 destra 3 lunga tonda per sfiera sinistra in destra 3 più 50 sinistra 4 apre per in fila sinistra 5 50 e sinistra 4 più secca 4 più secca per piega sinistra in destra 4 tieni sporca per sinistra 4 lunga chiude 3 lunga chiude 3 in ricorda destra 4 su monte bravo 100 e attenzione attenzione stacca forte destra 1 20 dosso tieni in sinistra 1 tutta lunga 1 tutta lunga concentrato vale per destra 1 salta 1 1 2 1 1 2